Sono stati arrestati i presunti responsabili dell'agguato messo a segno domenica 18 marzo a Rione Candelaro Affoggio, in cui un 55enne è stato ferito con due colpi di pistola. Si tratta di Michele Morelli, di 29 anni, Massimo Perdonò, di 41, e Vincenzo Lagrasta, di 39, il primo andato in carcere, mentre gli altri due hanno ottenuto gli arresti domiciliari. Secondo quanto emerso dalle indagini dei carabinieri, la spedizione punitiva sarebbe stata messa a segno per una lite avvenuta qualche giorno prima tra il fratello della vittima e Lagrasta. La vittima, sempre secondo la ricostruzione degli inquirenti, infatti, avrebbe preso le parti del fratello, aggredendo Lagrasta e colpendolo con alcuni schiaffi davanti ad alcuni colleghi di lavoro. Una umiliazione che avrebbe convinto Lagrasta a chiedere l'aiuto a Morelli, fratello della moglie, e la perdonò a sua volta zio della donna. Così quella domenica due persone avrebbero aggredito la vittima colpendola con un pugno al volto e poi sparando due colpi di pistola a calibro 9x21, offerendo il 55enne ai polpacci. Preziose per le indagini, le immagini delle telecamere della videosorveglianza della zona, che avrebbe ripreso fotogrammi importanti per risalire all'individuazione dei presunti responsabili. Dai conti sbalati di Foggia, dal pressing della Corte dei Conti sull'Andella, alla scura della Corte dei Conti sul sindaco di Manfredonia, Angelo Riccardi, che nei giorni scorsi ha salutato l'arrivo del nuovo assessore al bilancio Antonio Rana, al posto di Pasquale Rinaldi. Madesimo destino per i due sindaci che si trovano a fronteggiare l'insidio del piano di rientro. Anche nel centro Sipontino, la Corte dei Conti, nell'ultima rilevazione, ha accertato il mancato rispetto del piano di rientro, con riferimento al secondo semestre 2017 e, di conseguenza, ha invitato il Comune di Manfredonia ad avviare e realizzare con la massima rapidità le misure correttive previste nel piano di rientro ed ogni altra misura necessaria per rimettere in sesto i conti. Il piano di rientro triennale del Comune di Manfredonia sta creando tensioni tra maggioranza e opposizione anche sull'aumento della Tari. La carenza di liquidità oggi ammonta ad oltre 11 milioni di euro. Il debito, se così lo possiamo definire, del Comune di Manfredonia è esattamente l'anticipazione di tesoreria. E sostanzialmente stiamo parlando di un'anticipazione di tesoreria che si aggira in maniera costante fino a un massimo di 12 milioni di euro. Perché noi abbiamo scelto di fare un piano triennale di rientro? Perché abbiamo ritenuto giusto assumerci la responsabilità di un'operazione di rientro senza scaricarla sulle future generazioni. In settimana c'è stata un'aggressione a Giuseppe Latore, il mio assessore comunale. La cosa è grave, molto grave. E sta dentro un clima che è stato esasperato e viene esasperato riportando alla classe politica che amministra la soluzione a tutti i problemi. Positivo l'incontro di ieri a Bari tra il direttore del Dipartimento Salute della Regione Puglia Giancarlo Ruscitti e le organizzazioni sindacali per avviare il processo di stabilizzazione dei precari nella sanità pubblica dopo il parziale via libera da parte del Ministero dell'Economia. Le ASO dovranno predisporre entro dieci giorni gli elenchi dei dipendenti che hanno diritto alla stabilizzazione in linea con i parametri fissati dal decreto Madia e potranno procedere subito con l'assunzione degli idoni nelle graduatorie già vigenti. Nell'immediato verranno riattivati il concorso per titoli ed esami per 137 operatori sociosanitari all'ospedale riuniti di Foggia le cui procedure sono state avviate dopo la pubblicazione della delibera 608 del 13 dicembre dello scorso anno firmata dal direttore generale Dattoli e quello per ostetriche, bandito invece dall'ASLA di Taranto. 1680 è il numero di personale da stabilizzare indicato ma andrà poi riconsiderato dopo la ricognizione relativa al personale e alle lacune nelle piante organiche e nelle rispettive ASL. In questa prima fase sono escluse stabilizzazioni di personale amministrativo viene data assoluta priorità a quello infermieristico per arginare una carenza ormai diventata emergenza impossibile però già stilare un cronoprogramma definito nei dettagli. E rimane ancora chiuso il capitolo relativo alle nuove assunzioni necessarie per sostituire almeno parzialmente i 4.000 lavoratori andati in pensione dal 2008 al 2016 ma il cui ingresso è legato alla riduzione della voragine prodotta dalla mobilità passiva nelle casse regionali. Una manifestazione domanica 8 aprile contro le trivelle dopo la bocciatura dei ricorsi da parte del Consiglio di Stato. Così le associazioni ambientaliste si riuniranno nelle piazze dell'Adriatico per protestare contro le ricerche di gas e petrolio nel mare. Gli ambientalisti di Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia diranno no alla deriva petrolifera e ai progetti di prospezione Ergan approvati dal Ministero dell'Ambiente col placere del Ministero dello Sviluppo Economico. Flashmob saranno organizzati a Giulianova, Basto, Pescara, Termoli, Ancona, San Benedetto del Tronto, Rimini e Bari. All'appello manca la Capitanata dove invece la rete NotRiv sta organizzando un meeting nazionale per maggio tra Viest e Manfredonia per sostenere l'ultimo dei ricorsi rimasto ancora in piedi al Consiglio di Stato ossia quello presentato dal Comune di Polignano a Mare che si è opposto alle trivellazioni di fronte alle proprie coste. Ad oggi il Ministero ha emanato 9 provvedimenti di valutazione di impatto ambientale favorevoli all'uso dell'Ergan in Adriatico su 11 zone. Solamente un mese fa poi il Consiglio di Stato ha dato l'ok alle trivelle in mare di fatto bocciando i ricorsi presentati dalle regioni Abruzzo e Puglia. Con ogni probabilità anche le spiagge di Vieste domanica prossima ospiteranno banchetti informativi ma per dire no alle trivelle servirà una risposta più imponente che è prevista a maggio. Ancora proteste per l'ondata di multe illegittime erogate dal Comune di Cerignola a carico di automobilisti indisciplinati che però sono stati multati attraverso l'occhio elettronico contravvenendo alle norme del Codice della Strada. Sia la Prefettura di Foggia che il Ministero dell'Interno e il Giudice di Pace hanno etichettato come illegittime le contravvenzioni non effettuate attraverso il diretto coinvolgimento dei vigili urbani pratica più volte sbandierata anche attraverso i social proprio dal primo cittadino fantino Franco Metta. L'opposizione insorgono e attaccano il sindaco ed il comandante dei vigili Francesco Delvino. Siamo di fronte alla riprova di uno scivolone l'ennesimo di questa amministrazione facilona che intendeva evidentemente far cassa sulle spalle dei cittadini e quindi non è soltanto il fallimento di un tecnicismo giuridico ma anche il fallimento di un espediente di bilancio che evidentemente non ha portato risultati. Spero che qualcuno ne prenda seriamente atto oltre la prosopopea oltre la propria presunzione di bravura e paghi anche politicamente riconoscendo gli errori fatti. Siamo stati noi per il tramite dell'Avvocato e collega consigliere Rendini a chiedere al Ministro dei Trasporti un parere che già da tempo aveva bocciato quindi la possibilità di combinare, di elevare questo tipo di multe tramite la videosorveglianza adesso anche il giudice di pace per il tramite dell'Avvocato Netti dà ragione a quanto i consiglieri di centro-sinistra avevano ampiamente sostenuto. Oltre al danno l'abberta perché se pensiamo che le multe non pagate insieme ai tributi sono state affidate alla riscossione da parte dell'ex Equitalia completiamo il quadro. Tutto pronto per l'edizione 2018 della Coppa dei Campioni organizzata dall'ottava zona della Federazione Italiana Vela in collaborazione con i circoli velici di Manfredonia del Gargano Lega Navale di Manfredonia e Vieste, Ioting Club del Gargano e Centro Velico del Gargano. L'importante evento è stato presentato in Confindustria Foggia a dimostrazione del fatto che non si tratti solo di un evento sportivo ma anche di una opportunità di turismo e sviluppo del territorio. La Coppa dei Campioni vedrà la partecipazione dei primi tre equipaggi classificati per categorie in ciascun campionato invernale oltre a dieci inviti simili alle wild card tennistiche che saranno assegnati a barche ed equipaggi di valore ed esperienza. Un totale di 40 imbarcazioni di circa 400 atleti che andranno a vivacizzare una competizione in grado di dare lustro alla meravigliosa costa garganica. Quest'anno Manfredonia sposta il baricentro della nostra lunghissima regione velica molto più a nord ovviamente per ospitare questo evento della Coppa dei Campioni che raduna per farli gareggiare e competere tra di loro i campioni delle singole province della nostra regione quindi avremo i campioni provinciali dei campionati invernali di altura cioè delle barche grandi, delle imbarcazioni d'alto mare che hanno disputato già durante la stagione appena conclusa le regate a Taranto, a Gallipoli, a Brindisi, a Bari e ovviamente a Manfredonia. Quindi tutti i campioni di questi campionati invernali si riuniscono a Manfredonia per la Coppa dei Campioni appunto che dirà tra i campioni chi è il super campione ma con una maggiore difficoltà, un livello di competitività ancora più alto perché in regione attraverso appunto questa idea delle wild card degli inviti alle imbarcazioni più prestigiose che abbiamo la nostra regione abbiamo addirittura campioni del mondo in carica campioni italiani in carica che alcuni di loro non hanno disputato diciamo le regate invernali e vengono a Manfredonia proprio per confrontarsi con i campioni della stagione appena conclusa. Presidente, una gara velica ma non è soltanto un evento sportivo è anche un evento per promuovere il nostro territorio? Sì, effettivamente partiamo dalla gara velica per rappresentare a tutta la nazione perché è una gara di interesse nazionale quello che è il nostro territorio lo dobbiamo fare tutti assieme perché è l'unico modo per dire che il nostro territorio ha delle eccellenze e rappresenta un'eccellenza nel sistema nazionale quindi avere da noi una manifestazione sportiva di una gara velica che richiede tantissima attenzione sia in termini tecnici perché ci vogliono dei servizi particolari per il tipo di sport che si va a praticare ma soprattutto per la gente che arriverà sul nostro territorio perché una gara di questa ti porta tra i 1.500 e i 2.000 persone che assisteranno a queste manifestazioni ma soprattutto alloggeranno sulla nostra bellissima Capitanata e questo è il dato rappresentativo il messaggio che vogliamo dare oggi perché poi alla fine tutti i sistemi sia quello economico, imprenditoriale compreso quello dello sport e quindi la Federazione Italiana Vela che abbiamo fortemente voluto qui e devo ringraziare loro che hanno scelto noi devono essere capaci di rappresentare quello che è il nostro territorio e lo facciamo a questa maniera Presidente, riusciamo ad andare per mare e ancora non riusciamo ad andare però per il Cieli? Infatti il discorso dei Cieli resta sempre qualche punto interrogativo ormai il discorso dell'avere qui la protezione civile è stato un passo in avanti penso, e questo lo dimostriamo anche con quello che facciamo tutti i giorni che se vogliamo andare per mare dobbiamo andare anche per cielo perché poi quando hai l'ambizione di attrarre tantissima gente sul territorio li devi dare le infrastrutture soprattutto li devi dare i mezzi di collegamento e quindi penso che andare per cielo diventerà una necessità sempre più impellente per quelli che sono le ambizioni del territorio Si parla di sport, si parla anche di turismo si parla di un'occasione per la nostra città importante, con arrivi numerosi per uno sport che nella nostra città ha realizzato manifestazioni molto importanti Un evento importante per tutta la Capitanata? Assolutamente, sì che vede impegnati anche diversi centro velico, la Lega Navale insomma associazioni attive, iperattive sul territorio che dimostrano per l'ennesima volta grande capacità di sinergia e grande capacità di mettere insieme un'organizzazione non assolutamente semplice visto che ci accingiamo ad ospitare due eventi straordinari Santa Mamma perché il legame filiale è vissuto come un vincolo quasi religioso ma Santa Mamma è anche un omaggio a mia madre adottiva che ha vissuto con me la ricerca della mia mamma biologica così Giulio Cavalli ha presentato agli studenti del Poerio questa mattina il suo ultimo libro una storia autobiografica raccontata ai ragazzi senza fronzoli in modo diretto anche quando la discussione per forza di cose si sposta su argomenti come la mafia lombarda Giulio Cavalli è autore, drammaturgo, regista, attore e giornalista ha collaborato e collabora con testate quali l'Espresso e il Fatto Quotidiano ha scritto spettacoli teatrali importanti e vinto premi in ambito culturale per le sue inchieste giornalistiche contro la criminalità organizzata in particolar modo contro l'andrangheta ha vissuto sotto scorta per un lungo periodo di tempo quello di Cavalli è il quarto romanzo dei cinque selezionati nel concorso progetto leggo quindi sono le Giovani Parole 2018 rivolto agli studenti di Foggia e provincia l'autore questa sera sarà al centro di un dibattito organizzato presso la comunità parrocchiale della Chiesa della Sacra Famiglia di Foggia dove si rifletterà sulle tematiche legate al suo libro in riferimento alle difficili situazioni vissute dalle periferie italiane incontrerà circa 500 studenti delle scuole quanto è difficile e quanto è importante parlare ai ragazzi? io lo trovo molto più facile che parlare con gli adulti in un periodo storico come il nostro in cui i pregiudizi molto spesso sono l'inquinamento peggiore la tossicità con cui abbiamo a che fare parlare con i ragazzi invece è una liberazione penso che abbiamo perso un po' di contatto con i ragazzi su alcuni temi perché siamo stati capaci di renderli pop se non facciamo in modo che l'antimafia per fare un esempio riesca ad accendere la stessa colina in bocca che accende la mafia magari in Gomorra e allora la perderemo sempre siamo a Foggia in provincia di Foggia terra di mafia c'è appena stata la manifestazione di Libera che è stato un vero successo però le bombe continuano ad esplodere in città c'è un problema vero la mafia vince lì dove non si riesce a a instillare speranza quello che si può fare è sapere, essere consapevoli del fatto che i ragazzi ad esempio con cui abbiamo parlato stamattina fra dieci anni sono classe dirigente e se facciamo in modo che imparino ad allenare il muscolo della curiosità meglio di come abbiamo fatto noi di come hanno fatto i loro genitori e di quanto sia importante quel muscolo e allora probabilmente il silenzio tutto intorno non ci sarebbe e penso che sarebbe anche molto più difficile far scoppiare le bombe grazie a tutti